Dopo essersi barricati all'interno del supermercato del centro commerciale Le Rondini di Porto in Pedocle, trascorrendovi anche la notte, i dipendenti della GSB hanno portato all'esterno la loro protesta e la loro rivendicazione. Stamani hanno attuato un sitin a Porta di Ponte, allestendo anche un gazebo dal quale hanno distribuito volantini contenenti le ragioni della loro iniziativa. La mancata retribuzione degli stipendi da quasi un anno è un futuro lavorativo assai precario. Il signor Burgio si deve mettere una mano sulla coscienza e capire che non è lui solo a poter fare quello che vuole con i suoi soldi, quindi acquistare quello che vuole, poter permettersi di andare in ristoranti più costosi. Anche noi abbiamo una famiglia, i nostri bambini hanno lo stesso diritto che hanno i suoi bambini nel poter comprare quello che vogliono. Di darci i nostri soldi perché abbiamo i figli da sfamare e da fare studiare con i nostri soldi. Noi non chiediamo a lui extra o soldi non nostri, noi chiediamo i nostri soldi. Il problema nostro è un problema che vogliamo portare all'attenzione di tutti perché è da due anni che si protrae questa situazione in continuo disagio e sempre in senso negativo. Grande sostegno da parte dei sindacati che sono scesi in campo prendendo le difese dei dipendenti della GSB. Non solo non percepiscono la retribuzione regolarmente da più di un anno e avanzano diverse mensilità e poi da qualche giorno ci troviamo sulle spalle il fardello che l'azienda ha deciso in qualche modo di chiudere i punti vendita, ma non per chiuderli fino a se stessi ma per cederli ad altre aziende escludendo dal mondo del lavoro queste 98 unità. Noi chiaramente su questo non possiamo essere d'accordo. Ogni giorno ci sono appalti a massimo ribasso dove vengono decurtati ogni giorno diritti e dove viene tolta la legalità. Si sono tolti di mezzo i contratti collettivi nazionali, applicano contratti pirata, ai lavoratori non è stato più riconosciuto il contratto a tempo indeterminato. Se ne aveva un'azienda, nemmeno un'altra fa un contratto a tempo determinato e così rendendo il lavoratore sempre più ricattabile, così non te lo rinnovo e domani mattina tu dovrai camminare in ginocchio da me. Questo non si potrà sopportare, questa provincia deve versirsi di legalità. Questa non è una manifestazione spontanea, questa è una manifestazione organizzata da Cigelle e Cisleguil del settore servizi, commercio e terziario, dove insieme stiamo mettendo in evidenza tutte le cose che non vanno in questo settore. Questo è un problema che va visto in maniera globale, noi come sindacato stiamo attenzionando fortemente questo problema, però oggi noi abbiamo consegnato in prefettura un documento forte dove vogliamo che il signor prefetto, la signora, la sua eccellenza del prefetto, il dottoressa Ferrandino, si faccia anche carico e comincia ad instaurare un tavolo così permanente tra noi parte sociale e non solo i supermercati del signor Burgio, ma tutto il settore del terziario.